Salve a tutti, sono Riccardo Merelli, ho 33 anni, sono il life coach, ma come avrete letto dal titolo, anche oggi ci prendiamo un'altra pausa dalla didattica. Diciamo così, perché ho da spacchettare una sorpresa con voi. Ho promesso alla ragazza che mi ha mandato questo premio che avrei fatto il video. Oggi per me è il 23 gennaio, fatalità è il compleanno della mia cagnolina, tanti auguri, Freya, passerà una foto probabilmente qui da qualche parte. Però il regalo è arrivato a me, è arrivato a me nonostante sia stato prontamente spedito il 13 dicembre, ma il mio commento a questa situazione sarà solo poste italiane. Ma vando alle ciance, vediamo cosa ho vinto il pacco, il gioco a premi e a tema Messico. E in realtà io lo avevo già aperto, ma il mio vizio di non farmi uno script mi ha giocato un brutto tiro, nel senso che mi impappino, non mi piace quello che dico. E siccome questo è il terzo video, spero che sia l'ultimo. La scatolina è molto carina, aveva una fantasia così sul coperchio e non ve la tiro su, ma vi dico che la scatolina era invece a righe colorate. Avevo scoperto per voi alcune caramelle, le faccio rivedere per voi alla prima volta. Una è questa, una è questa, una è questa, altrimenti c'era anche così. Ce n'è per tutti i gusti, si può dire. E prima di interrompermi per l'ennesima volta, avevo preso in mano il fantastico teschietto. del dia dello smuertos, che sto tenendo al contrario. Molto molto bello dal vivo, molto più bello di quanto non ve lo abbia fatto vedere io. Altre caramelline, va bene, non ve le faccio vedere tutte, ma il pezzo forte, l'altro pezzo forte dopo il teschio, arriva adesso, perché io adesso metto a posto il teschio al sicuro. e vi faccio vedere l'altro pezzo forte del pacchetto, che è, ultimo ma non per importanza, il grembiule messicano. Ecco, magari lo indosserò, se riesco, e se riesco farò una foto. Quindi, siccome non mi sono espresso molto, facciamo che spendo ancora qualche minuto a parlarvi del canale di Chiara e di Jorge. Spero di averlo pronunciato bene. Chiara e Jorge sono il mio sogno di bambino, ovvero una famiglia multilingue, perché Jorge è messicano. Se non sbaglio, correggetemi, se sbaglio, proprio il regista del Messico, non sono così sicuro. Chiara viene da Grosseto, che è dove abito io, ma al momento abitano in un'altra regione, che se se la sentiranno, quando se la sentiranno, condivideranno loro, io non riferirò la regione per privacy. E quindi, il loro canale diciamo che è fatto un po' di cultura, anche italiana, un po' di cultura anche messicana, e un po' di quei vlog, che ora vengono chiamati con l'anglicismo di lifestyle, perché dire stile di vita, si sembrava brutto, hanno quella che è una particolarità rispetto ai canali di famiglia, diciamo così, ordinari, che sono doppiati anche in spagnolo. Quindi, se ad esempio, voi voleste imparare un po' di spagnolo, sono doppiati in spagnolo, perché ho detto doppiati? Sottotitolati in spagnolo, sottotitolato in spagnolo, quindi non so se voi siete curiosi di una prima infarinatura dello spagnolo, c'è questa possibilità. Gli sottotitoli sono attivi direttamente in spagnolo, suppongo per la parte di famiglia messicana, che altrimenti farebbe fatica a comprendere quello che succede nei vlog, e quando parlano in spagnolo, ovviamente traducono in italiano, quindi veramente un vlog alla portata di tutti, hanno un bambino, un bimbo piccolino, che si chiama Leon, e io non vedo l'ora che apprenda a parlare per condividere con loro la meraviglia del bilinguismo, il mio sogno proibito di famiglia bilingue, quanto meno bilingue, che in qualche caso è pure trilingue, ma già mi sarei accontentato di due, perché psicologia dice che l'età anagrafica che va dai due ai sei anni è quella migliore per imparare una nuova lingua. Bene ragazzi, io avrò chiacchierato secondo me abbastanza, anche se per voi sarà un video un po' più corto a causa dei numerosi tagli che sicuramente dovrò fare, vi lascio sia nel titolo sia in descrizione il canale YouTube di Chiara e di Jorge, non mi dovete assolutamente nulla, lo faccio con piacere, sono stato e sono ancora un canale piccolo anch'io, quindi conosco benissimo la fatica, quella che è la fatica di farsi prima di tutto conoscere, e seconda cosa, ma non ultima, anche e soprattutto indicizzare da YouTube, se posso dare un piccolo contributo al vostro canale con questo video, anche se piccolino, ben venga. E niente, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, e vi ricordo che la mia attività di coach è sempre attiva, quindi se siete interessati in una consulenza, anche sotto questo video potete contattarmi tramite commento o tramite i social che trovate anch'essi in descrizione, e mi raccomando, prendetevi cura di voi stessi. Ciao!